Senti, io sono venuto da Roma proprio per parlare con te Perché tre giorni fa Renzi è venuto a Fraschiati, no? Alla festa dell'unità Ti avete dato da bere almeno o no? Eh, quello beve e mangia, non ti preoccupare Allora ha detto a Lega Roma ladrona Allora Roma ladrona, però quando sono venuti a Roma si sono accomodati bene Con le sue banche che ha protetto cosa hanno fatto? I poveri pensionati che avevano lì un po' di soldi Per di tutto il risparmio di una vita che li ha lasciati fregare Ha detto che sono tutti gli aghiere Sì, sono gli aghiere Ha posto ha scritto Però quelli che piangono non sono contenti Che hai detto? E sono gli unici che hanno fatto le leggi serie Sì, vabbè ma io sono venuto a parlare con lui Allora che gli devi dire Renzi? Gli devi dire Renzi di darsi una dritta Una dritta? Di darsi una dritta e non continuare a proteggere i parasiti E allora è finita la missione Non ho più niente da dire